Finalmente ragazzi, finalmente! Ragazzi dopo la partita di ieri ragazzi abbiamo fatto più 30 coppe Questa raga non me la perdo, questa offerta ragazzi non me la perdo Non me la perdo ragazzi, non me la perdo Non me la perdo ragazzi, questo oggi andremo a sciuppare ragazzi Andremo a sciuppare la fenicia ragazzi, andremo a sciuppare su flash real la fenicia ragazzi E ragazzi non mi vediamo pure che ragazzi non mi inizio Ragazzi ce l'avendo fatta Io ragazzi sto sognando perché io ragazzi non mi vediamo veramente lì E quest'oggi apprenderò e lavorerò nel mio master Ma non ho le cose delle cose E' un'altra cosa e non mi vediamo che è un'altra cosa E' un'altra cosa che non è Che rimane? Che cazzo non ha cambiato un mazzo di madre qua Ah ma è una pezza che è? E' quella che è quella? E' quella che è quella che è quella che è la manca Questa è il pescaiolo, il cannone, il scaccamuro, mi ricordo la velena, il grande cobro, il cucciolo di Drago, il suo primi, la principessa, è il carbone, il quadro, il simbolo, il drago elettrico, la cavana, la cavanda, la cavana Manuel. Prima ragazzi, secondo me, io voglio mettere a fare l'elenco delle carte. ma anzi ragazzi andiamo a partire stiamo parlando a vincere la partita la stacchione civile se vinciamo la partita la stacchione civile ok andiamo a ripresa non ci vuole dire se non ci riesce 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 E' un po' di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.